Signori, benvenuti al Babuzoio Market. Qui c'è tutto per i gatti e per le mice, ossi e giochi per il cane felice, vestiare la moda per l'allevatrice, la nuova gabbieta per la tua pernice, sementi, rigatori, una falciatrice. E invece lei, giovanotto, cosa mi dice? Eh beh, fino alla lavatrice. Piacere mio. Le presento Melchiorre, lui si occupa del sommerso, ha capito chi è? L'idraulico. No signore, è l'acquarista. A proposito Melchiorre, ci dica, qual è attualmente la migliore disposizione per un acquario? Con la luna in sagittario. A breve, però, avrà luogo il raduno internazionale del zoofilo. Lei conosce le lingue? Vai tranquillo, tutte. Tutte? E come lo parla il giamaicano? In maniera sconvolgente. E quando lo usa il bengalese? Solo a Capodanno. Ma per favore, senta qua invece. Melchiorre, quali sono gli anfibi più amati dalle donne? Colorati, che stanno bene anche con un leggings. Ottimo. Quanto a lei, ora le faccio un piccolo test di cultura zoologica. O risponde bene, o la sbatto a dare da mangiare ai piragna senza guanti. L'alano è un cane indicato per chi ha molto spazio a disposizione. Invece, quando consiglierebbe lo Shar-Pei? Quando c'è freddo. Cos'è lo Spitz Nano? Un mini aperitivo. Dove trovi lo spinone? Nella presona. Cosa ottieni se accopi due setter? Settanta setter. Africani, Sakba, Shakita, Alabai, Alaskan Klikai, Alaskan Malamut, Asvak, Bandog, Bangara, Barak, Kokapu. Cosa mi dice? Eh, quest'anno il Camerun è forte. Singapura, Tonchinese, Abissino, Balinese, Burmese. Dove siamo? Nel Bergamasco. Ma per favore. Il tirannosauro nel cretaceo. La balena? Nel cetaceo. Dove si fa la tana, l'orsetto lavatore? Negli oblole e le lavatrici. Per contarle gli anni, la tartaruga va? Tagliata e gli conti gli anelli dentro. Lupi, squali, piragna, stiamo parlando di? Equitalia. Riconosci la pecora Merinos dalla pelliccia e dai? Tacchi a spillo. E se le dico Starnautzer? Le dico Saluter. Il gorilla è un quadrumane particolare. Cosa lo caratterizza? Gioca a battimane da solo. Dove trovi il Cincillà? Cincillà. Anche Cincillà. Fammi, se ne sei capace, adesso, il verso della poiana mongola. Ma per favore, non ci siamo assolutamente. Guardi qua, Melchiorre, se un pappagallo dice pipì, va svuotato.